Lunedì 26 gennaio alla ripresa degli allenamenti dopo la brillante prestazione del Massimino dove la Pro purtroppo però ha perso 4-0, siete d'accordo? No! Gagliarda, Gagliarda! Guardi il cane, che cane lì! No, no, prima della prossima sconfitta, sabato col Modena, col Modena di Walter Alfredo Novellino senza Marconi e senza Stratella che sono in uscita, molto probabilmente abbiamo fatto un sogno stanotte e pare che sia così, però ci sono sporcati, c'eviotti, siete fiduciosi? Sì! Come dobbiamo giocare? Con la difesa 4-5, una punta, due punte? 4-4-2 4-4-2 5-5-5 Come dobbiamo giocare? Va bene così! Miriamo ancora ad un posto al sole, siamo d'accordo? No! Come no? Ma questa Pro vi piace? No! Sì, sì, nel complesso sì, assolutamente! Mi piace la schistofrenia! Mi piace la classifica! La classifica ci piace, al momento la squadra è migliorabile ma ci miglioreremo fino a partire da sabato, state collegati con noi, vi aggiorneremo costantemente, forza Pro, forza Pro! Pro, Pro!